In collaborazione con le associazioni il 27 luglio e il Giresi Novo Pedale abbiamo raccolto questa sfida di ricollegare lo sport e quindi un'attività promossa lungo tutto l'anno e molto seguita con quelle che sono le tematiche della liberazione quindi una sorta di giornata del calendario civile ricollegata con quelle che sono le abitudini e il divertimento di tutti i giorni. Per l'occasione il 24 luglio, quindi qualche giorno prima della data delle due liberazioni di Figline Incisa su Appian d'Albero si raduneranno i ciclisti, i mountain bikers che parteciperanno a questo interessante raduno che ha l'obiettivo di riportare attenzione su questi temi in un'epoca che molto probabilmente ne ha bisogno di stringersi intorno a quelle che sono le nostre abitudini. Quindi questo è un piccolo passo, ringraziamo le associazioni che partecipano dall'Ampi fino all'associazione il 27 luglio e come detto il Giresi Novo Pedale.